maupassant storia vera un forte vento soffiava all'esterno un vento autunnale rumoroso e violento di quelli che uccidono le ultime foglie e le sollevano fino alle nuvole i cacciatori erano alla fine della cena ancora con gli stivalli ai piedi rossi in faccia vivaci eccitati erano quei segnalotti della normandia che sono in parte della piccola nobiltà provinciale e in parte contadini ricchi pieni di vigore nati per troncare le corna ai buoi nei tornai campagnoli per tutto il giorno erano andati a caccia nei terreni del padron Blondel sindaco di Eparville e ora stavano mangiando attorno alla gran tavola nella villa e fattoria di cui era proprietario il loro anfitrione parlavano a urli, ruggivano come animali selvatici e bevevano come otri, con le gambe protese in avanti, i gomiti nella tovaglia, gli occhi lucidi alla fiamma delle lampade riscaldati dal fuoco di un camino gigantesco che mandava sino al soffitto sanguigni bagliori chiacchieravano sulla caccia e sui cani ma erano a quel punto di ebrietà in cui agli uomini un po' alticci vengono in mente altre idee e tutti non staccavano lo sguardo da una ragazzona dalle guance paffute che portava sulle mani arrossate grandi vassoi stracolmi di cibi a un certo momento un tipaccio che era diventato veterinario dopo aver studiato da prete e che curava tutto il bestiame della zona il signor Sejour sbottò accidenti Blondel, quella servotta è fatta proprio di ciccia fresca copiò una gran risata allora un vecchio nobile decaduto alcolizzato, il signor Varnetot, levò alta la sua voce una volta io ho avuto una storia curiosa con una di queste ragazzone bisogna che ve la racconti quando ci ripenso mi torna in mente la mia cagna mirsa che avevo venduto al conte Hussonel e che appena la svegavano tornava da me perché non riusciva a starmi lontana alla fine mi sono scocciato e ho pregato il conte di tenerla sempre alla catena e sapete che ha fatto quella bestia? è morta di crepacuore ma per tornare a quella serva ecco la storia avevo 25 anni e facevo vita da scapolaccio nel mio castello di Villabon sapete quando uno è giovane coi soldi e s'annoia ogni sera dopo cena butta gli occhi da qualche parte scoprì presto che a servizio di De Bulto a Cuvill c'era una ragazzona voi l'avete conosciuto De Bulto? vi ricordate com'era Blondel? per farla breve quella mascalzoncella mi fece perdere la testa al punto che un bel giorno me ne andai dal suo padrone e gli propose un affare gli avrei venduto la mia giumenta nera Cocotte che lui voleva comprare da un paio d'anni se mi cedeva la serva mi tese la mano stringetemela signor Vartenot affare fatto la ragazza venne al mio castello e io andai personalmente a portare la giumenta a Cuvill cedendogliela per 300 scudi nei primi tempi tutto filo liscio come l'olio nessuno si era accorto di niente c'era solo il fatto che Rose per i miei gusti era troppo affezionata credetemi quella figliola non era una qualunque doveva avere nelle vene qualcosa di nobile doveva essere figlia di qualcuno che aveva rotto l'uovo insieme al suo padrone insomma mi adorava usava certe moine, certe carezze, certi nomignoli da cagnetto tanti di quei gesti gentili che danno da pensare dicevo tra me e me non andare avanti altrimenti ti farai accalappiare ma accalappiare me non è cosa facile non sono di quelli che si fanno incantare da qualche bacio e così stavo in guardia quando lei mi annunciò che era rimasta incinta pam pam era come se mi avessero tirato in petto un paio di schiopettate e lei mi abbracciava, mi baciava, rideva, ballava sembrava una matta il primo giorno non dissi niente ma cominciai a rimuginare mi dicevo ci siamo devo parare il colpo e rompere la relazione non c'è tempo da perdere capirete mio padre e mia madre stavano a Barneville e mia sorella che aveva sposato il marchese di Iparc a Rolbeck a 5 km da Villebon c'era poco da scherzare come avrei potuto cavarmela se la mandavo via la gente avrebbe sospettato qualche cosa e sarebbero cominciate le chiacchiere e se la tenevo sarebbero presto fiorite le rose e d'altra parte non potevo abbandonarla ne parlai con mio zio il barone di Crotel un volpone che ne ha fatte più di Carlo di Francia e gli chiese un consiglio ecco la sua tranquilla risposta devi trovarle un marito ragazzo mio fece un salto darle un marito zio e chi? scrollò le spalle ma chi ti pare sono affari tuoi non sei uno sciocco se non sei uno sciocco alla fine troverai per otto giorni ripensai a questo discorso e alla fine conclusi lo zio ha ragione cominciai a lambicarmi il cervello e a cercare una sera avevo a cena il giudice conciliatore e stavamo finendo di mangiare quando mi disse il figlio della vecchia Pumel me ne ha combinata un'altra delle sue quel ragazzo finisce male di sicuro non è vero che buon sangue non mente la Pumel era una vecchia furbacchiona che da ragazza ne aveva fatte di tutti i colori per uno scudo sarebbe stata capace di vendere l'anima aggiungendoci in sovrappeso quel tipaccio del figliuolo andai a farle visita e pian piano le spiegai la faccenda poiché stavo confondendomi in troppe spiegazioni lei mi domandò a bruciapelo quanto darete alla ragazza? la vecchia era furba ma nemmeno io ero sciocco e poi mi ero preparato a dovere possedevo tre campicelli sperduti dalle parti di Sassville tre dipendenze dai miei grandi poteri di Villebon i contadini si lamentavano continuamente della distanza così che fui costretto a riprendermi la terra erano quasi tre ettari e a condonare a seguito delle loro proteste quel che mi dovevano di pollame in cambio dell'affitto così la storia si chiuse comperai poi un pezzo di terra dal mio vicino di Omont e ci feci costruire una casetta tutto per 1500 franchi avevo così messo insieme una piccola proprietà che non m'era costata molto e la davo in dote alla ragazza la vecchia si lamentò non era abbastanza io resistetti e ci lasciamo senza aver concluso niente all'alba del giorno successivo venne a farmi visita al giovanotto non ricordavo neppure che faccia avesse nel vederlo fui sollevato non era niente male per un contadino anche se aveva un'espressione da furfante girò attorno all'argomento come se fosse venuto per comprare una vacca quando raggiungemmo l'accordo volle vedere la proprietà e così ci andammo attraverso la campagna quel birbante mi fece rimanere lì per tre ore andava su e giù misurava prendeva fra le mani le zolle della terra sbriciolandole come se avesse paura di essere imbrogliato sul valore della verse la casetta non aveva ancora il tetto e lui lo pretese di ardesia invece che di stoppie perché in tal modo avrebbe richiesto minori cure poi mi disse il mobilio lo mettete voi? protestai eh no mi sembra abbastanza dare un podere si fece una risata già un podere e un figlio arrossì contro la mia volontà lui continuò allora darete il letto la tavola all'armadio tre seggiole e i piatti altrimenti non ne facciamo di nulla accettai ci rimettemmo in cammino per tornare indietro sulla ragazza nemmeno una parola da parte di lui all'improvviso mi chiese con un'aria tra imbarazzata e sorniona e se quella muore a chi va la roba? risposi a voi naturalmente era tutto quello che voleva sapere sin dalla mattina mi tese subito la mano soddisfatto eravamo d'accordo ma per convincere Rosa ci volle del bello e del buono si trascinava ai miei piedi si inghiozzava ripeteva proprio voi mi fate una proposta simile proprio voi voi per oltre una settimana pose resistenza a tutti i miei ragionamenti e alle mie preghiere le donne sono stupide quando si mettono in testa l'amore non capiscono più niente non c'è ragione che tenga avanti a ogni cosa l'amore tutto per l'amore alla fine mi adirai e minacciai di cacciarla allora pian piano cedette a patto che le dessi il permesso di venirmi a trovare ogni tanto l'accompagnai all'altare di persona pagai le specie della cerimonia offri il pranzo nuziale insomma feci le cose in grande e poi arrivederci ragazzi e me ne andai a passare sei mesi in casa di mio fratello in Turain al ritorno mi dissero che ella era venuta a cercarmi al castello ogni settimana ero appena arrivato da un'ora quando me la viti davanti con un marmocchio in braccio ci crediate o no nel momento in cui vidi quel bamboccetto sentii qualcosa dentro di me credo anche di avergli dato un bacio la madre invece non si riconosceva più uno scheletro un'ombra secca invecchiata perdi in cibacco il matrimonio non faceva per lei senza riflettere le domandai sei contenta? si mise a piangere come una fontana e tra singulti e singhiozzi mi gridava non ce la faccio più non ce la faccio più a stare senza di voi meglio morire non ce la faccio più faceva una scenata terribile la consolai alla meglio e la riaccompagnai al cancello venne a sapere che il marito la picchiava e che era tormentata anche da quella vecchia strega della suocera tornò dopo due giorni mi abbracciò poi si buttò per terra ammazzatemi ma io laggiù non ci torno anche Mirza se avesse avuto la parola avrebbe detto le stesse cose ormai quella storia mi cominciava a stufare me la svegnai per altri sei mesi quando tornai seppi che era morta tre settimane prima dopo essere venuta al castello tutte le domeniche proprio come Mirza anche il figlio era morto otto giorni dopo e il marito quel gran farbutto ereditava a quanto pare gli è andata bene da allora è diventato consigliere comunale il signor de Barnetot concluse ridendo c'è poco da dire sono stato io la causa della sua fortuna e il signor Sejure il veterinario si portò serio alle labbra un bicchierino di Mistrat e fece la morale dite quel che vi pare ma una donna così non dovrebbe neanche esistere grazie a tutti 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 grazie a tutti